11 telecamere di nuova generazione vigileranno sui giardini del Porcinai e nelle zone limitrofe e poi una maggior rilluminazione in quell'area di fronte alla stazione di Arezzo, spesso teatro di degrado, microcriminalità e episodi violenti. Così si è concluso il tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Maddalena De Luca, al quale hanno preso parte associazioni di categoria Forze dell'Ordine e Comune. È una situazione che noi da tempo avevamo alla nostra attenzione e ieri sono stati messi a punto degli interventi operativi, quindi un intervento coordinato da un lato, un intervento antidegrado per cui una maggiore illuminazione, un maggior controllo dal punto di vista proprio dell'utilizzo dei giardini del Porcinai e poi maggiori servizi, servizi dedicati, servizi antidroga, insomma un'azione a 360 gradi. Soddisfatte Catiuscia Fei e Valeria Alvisi, direttrici rispettivamente di Confcommercio e Confesercenti, che nei mesi scorsi in più occasioni avevano raccolto le preoccupazioni dei commercianti della zona. Il prefetto, hanno dichiarato, ha mostrato la massima disponibilità a mettere in atto azioni concrete mirate a prevenire e se necessario reprimere fenomeni che contribuiscono ad alzare la percezione di insicurezza tra chi vive, lavora e frequenta la centralissima zona.